Tutti dicono cosa fare e cosa è bene per te. Non vogliono che trovi le tue risposte, vogliono che tu creda alle loro. Io voglio che tu smetta di raccogliere informazioni dall'esterno e che inizi a trovarle dentro te stesso. Grazie a tutti. La gente teme quello che ha dentro, ma è l'unico posto in cui troverà tutto quello che serve. Quando i rumori si attenuano e sei lì sdraiato nel letto e non c'è nessuno tranne te, allora forse hai un po' paura. Paura perché d'improvviso sembra tutto così vuoto.